Ok, che cos'è un senote? Un senote è una falda acquifera o una grotta sotterranea, tipiche del Messico, che si trovano spesso nelle prossimità dei vari villaggi Maya, come ad esempio quella che vi porterò a vedere oggi è una senote al chiuso, quindi chiusi in una grotta. La figata di queste grotte, falda acquifera, come le vogliamo chiamare, e trascendo il fatto che sono tutte collegate attraverso i funnel dei canali naturali, hanno un'acqua stupenda, tutta acqua dolce, soprattutto sono molto profondi, sto parlando 80-90 metri sotto l'acqua. Ad esempio quello che ho visitato io, almeno in questo video, è quello del villaggio Kobe, e c'è un nome impronunciabile, cioè adesso ve lo scriverò qui, ve lo leggete, perché non è impronunciabile, fate cagare, fatelo dire, c'è tante dei nomi di merda messigliani. Invece un altro che ho visitato, a differenza dell'altro, è a cielo aperto, questo qui è quello del villaggio di Ciccenizza. Per chi non lo sapesse, Ciccenizza è il villaggio Maya con la piramide più famosa del mondo, cioè è una delle sette meraviglie del mondo, se non sapete ve la lascio qui. L'avete vista tutti, cioè la piramide Maya per eccellenza è conosciuta da tutti. E ovviamente anche di questa cosa, purtroppo non ho lasciato la GoPro in albergo, però comunque vi lascerò dei video che ho fatto io e delle foto per farvi capire le varie tipologie. Ah, è finito questo momento culturale, possiamo andare via dei video. Bye mate.